E tu chi sei? Mi chiamo Mary O'Hara E di preciso che cosa ci hai preparato? Tarte Tatin con banane È deliziosa Sta a noi giudicare È divertente fare i giudici, non è vero? Speriamo che la tua tarte non sia anch'essa comica C'è poco zucchero Perché è una torta dietetica L'impasto però... C'è troppo burro È anche non dietetica Perfettamente equilibrata Ma poi perché le banane? Mi dispiace, il prossimo? È tutto quello che avete da dire? Io ci ho messo una vita a prepararla Hai una bella faccia tosta Non è vero? Sono solo sincera Comunque non è del livello richiesto per entrare in questa scuola Il prossimo Oh no Ah, immagino che lei sia tua nonna Avrà qualcosa da dire in merito al tuo comportamento Brutti presuntuosi col cappello da cuoco Non è del livello richiesto di te? Io dico che voi non siete al livello della mia Mary Così non mi aiuti, nonnina Comprendiamo la vostra delusione Ma questa è una scuola di cucina prestigiosa Non possiamo ammettere chiunque Chiunque? Chiunque? Mary non è affatto chiunque Lei è la mia rosellina preferita La tua cosa? Ma comunque Mary potrà rifare l'esame tra qualche settimana Per dimostrarci di che cosa è veramente capace Può stare sicuro che lo rifarà E io sarò con lei È una minaccia? No È una promessa È una promessa